gol prendi la raiomide lunghe per favore anzi siamo noi 31 credo c'è scritto nella 42 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 52 mermin diciamo il visore un problema essendo medico e devo avere il lo zaino medico una cassa medicinale portate verso non posso mettere la radio onde lunghe perché ho quella non sapevo che fossi medico dico scusa allora chiedo qualcun altro di farlo io 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 tappai no lo faccio io il radio operatorio intanto io devo usarlo comunque perché sono capo operazioni la comando 50 comunque che va bene allora fai tu 5 e cinque come teme colore colore quel come senso lato il merino da cecchino e l'ho preso io raggio ti serve no no tipo volentieri l'arma daMac meno sommesso adesso porca puttana ma non si può usare non ci sono le ottiche sui fucili non ci sono le ottiche dov'è che sono che non le vedi la prima cassa a sinistra il basco questa bianca no quella dall'altra parte i poliziotti si rendano le jeep normali ok ricevuto la torcia la busta tanti giorno se avete munizioni da 6.5 da femminile cercavano zaino io più che altro ragazzi a questo punto noi ci prendiamo le jeep armate che sono libero un po' come si individui in squadra è vero grazie amore poi siamo il 42 ok quindi noi prendiamo le jeep armate se qualcuno di voi riesce a prendere i colpi per l'hk mi fa un piacere un piacere ma i miei veicoli eagle riesce a caricarle una cassa americana in una delle jeep e non spalate le colpi il tempo di missione sono 4 ore cazzaf e lo dice l'orologio non lo dico io si attendiamo gli altri vedete tutte e due jeep questo qua è un caso armato sta in quale? c'è la fatica non mi ricordo più ombre è morto mi sembra che si era fatica sta stato investito è stato investito il 100% oh è la cassa bendo la mia cassa è stato investito la cassa lo sapevo lui bendo i cassi sono molto pericolosi c'è le persone oh tappa ancora lo devo bendare io ho già finito le bend bene ma chi sono i miei? allora Aldir, Vite e Leroy allora Leroy, Vitex, Riegel e Aldir sono sulla jeep di sinistra gli altri sulla jeep di destra noi che andiamo è Aldir con me Vite dove sei? mettetevi i rossi Leroy, Vitex, Riegel e Aldir gli altri si mettono verdi comunque su che jeep andiamo? e tu chi sei? Vitex sinistra, Vitex rosso rosso, sinistra e i verdi destro li vedete rosso? si c'è un'altra squadra che aspetta scusate ma hai detto i colori io non vedo niente comunque da solito dove siete allora ragazzi allora ragazzi Leroy, Vitex, Riegel e Aldir sono i rossi Tapparella, Lux, Ombra, Eagle sono i verdi ok? rossi jeep di sinistra verdi jeep di destra un momento io ancora io non ho fatto un cazzo ancora si sali su una jeep a caso intanto dai che andiamo senza punizione senza ottica senza niente salgo è tutto nella macchina vai tranquillo dai artigliere mi sono messo dai jeep bravo bravo eeeh quello io? si si vai no aspettate noi andiamo noi per qui vai da qua vai vai Igor eeeh ci sono messo una nella macchina le ho di capito è tutto seguito oh se la sono rifottuta si se la sono rifottuta chi si è preso l'optica da che ce la fa macchina no ma io l'optica ce l'ho non c'ho le punizioni va per macchina oh si sta perdendo l'anio la lenta la lenta la lenta vieni pure in stanza accelera pure un po' ah con l'ao adesso spuna voglio quello di che ha fatto scarpe ho detto 70 km senti il zio 2 punti ragazzi che meraviglia 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 sull'artistima che meraviglia vediamo milon è Grazie a tutti. 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 Ok, quindi partiserò pure lì. La polizia sta ruotando come se non ci fossero domani. Giusto, giusto. Ok rossi, quando passo l'altro ve... no, venite su su mio veicolo. Verdi, venite qua al vostro. Prendi artigliere. Ok, ricevute solito a bordo. Qualcuno di noi prende l'artigliere o lo prendo io? Sei medico, prendilo pure. Sono Markman. Prendilo pure allora. Questo l'ho messo io, artigliere. Artigliere Rallo. No, sono sopra io. Tappa quando vuoi. Ok, vai. Ok, siamo in partenza quando passiamo sediti di più. Ecco, è voluto verso il ponte. La ferma. Non so se la vostra resta, tappa. Poi è in spazio un po' più a sinistra. Noi, vai. Noi, vai, vai. Contatto, contacto alla fine del ponte. Sì Oh, confermati! No, è morto! Oh, venite davanti voi! Andate davanti voi! Abbiamo messo l'amitatore a 10 km all'ora Sì, barboni, andate a lì! L'amitatore è troppo pericoloso! Attenti su a destra, ragazzi! L'amitatore è troppo pericoloso! L'amitatore bombardano! Attento a destra! È morto, è morto, è morto, è morto! Oh! Non senti alla montagna, eh! Però se cammini sul marciapiede è male tutta la visuale Scolli l'arte, è da scolli l'arte! Oh, contatti, contatti! Oh, contatti, contatti! Oh, contatti, contatti! Oh, contatti! Anche sulla sinistra, sulla macchina! C'è un contatto! Oh, contatti, contatti, contatti! Oh, contatti, contatti! È sceso! Bon, tutti down, tutti down, tutti down! Ok, posto! Oh, contatti! Oh, contatti! Sono solda anche con i tappi! Oh, contatti! Piano piano! Ti mangio di tutti! Sì, adesso lo recuperiamo Guarda Attenzione di appunto Non riflette, guarda, figlio di contato Oh mio Non me lo faccio a fare Adesso, non ci sono, non ci sono Sì, sì Sì, abbiamo testato a destra Sì, adesso non ci sono ancora Tutti giù, tutti giù nella macchina Tutti giù dalla macchina Freno Ok, noi siamo nella casa sopra Sono troppo strano, avete visto? Ok, ragazzi Ok, la scuola rossa, si mette su questa continente Non cazzate Mi hanno colpito Allora, siamo sotto il ponte Andiamo oltre le case Eh, pure io Sei l'unico Oh, siamo sotto unissimo Anche io Ok, venite via dietro, con il mirino No, tramidiamo con il mirino Merda, non ho visto quello che ti ha sparato a me Porto via io Si è volendo in mezzo alla città, però non riesco ad ingaggiare Polizia delle case, eh? No C'è una morfina Abbiamo un marksman? Negativo No Questo? Si, l'iro è marksman Il rossa però no Ok Bravo Vitex, riesci ad andare su quel balcone in cima al palazzo Ok, il rossa scendete giù Rossa scendete giù alla micrucia Ah no, scusi, sei della scuola rossa Rossa scendete giù alla micrucia Rossa scendete giù alla micrucia Puntati da 182 tappi Rossa scendete giù alla macchina Rossa scendete je Puntati da 182 tappa eeeh ciao, figa gli ho detto di avanzare ma sono rimati davanti più ome andiamo recuperando andiamo recuperando, aspetta che facciamo la recuperazione anzi, ci sono dei miei cittadini 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 non riesco a stare in copertura i 16 sono altri ragazzi metto giù un punto d'incontro ci incontriamo tutti in questo punto tutti chi? rossi e verdi rango down dall'altra parte di ponte sulla collina r più b 5 siamo tutti in questo piccolo punto attenzione non è pulita la zona che ha ricevuto rossi con me su di me uno l'ho tirato uno l'ho tirato tappa sono sul tetto ma mi tirano eh quindi occhio ok se non riesci se sei troppo scoperto scendi eh no ma di qua piano piano magari si riesce a fare qualcosa però bisogna fare con molta calma servirà più un marksman su qua e adesso stiamo andando fuori che stiamo andando fuori ok abbiamo qualcuno giù noi no forse ok continuiamo ma cosa faccio rimango su qua o vengo giù si dagli una mano come spotter almeno eliminate quelli che ci vengono a rompere le scappare allora attenzione a destra la zona potrebbe essere non pulita ne ho visto uno sul scappare aspetta aspetta ma forse l'ho preso non sono sicuro comunque dicevo quando finite di recuperarvi andate al ponte e girate fermatevi a sinistra il ponte oppure girate dentro una città che comunque adesso abbiamo liberato all'inizio aspettiamo solo Riegel che abbiamo finito con il comando non ho capito Riegel sei pronto? sto pronto io ok voi andate verso 160 gradi lì 170 gradi e noi passiamo sotto andiamo a 235 e puliamo la città va bene chi sta sul tetto copre dal tetto ok rossi subito eh prendo via guida rossi siete sul tetto sul tetto ci siamo io e l'eroi avanti le vite come per 196 dall'altra parte probabilmente ha fatto il giro del palazzo c'è la polizia dall'altra parte oggi ah ma siete già qua voi si inizia la polizia qua dove siamo noi eh sono incrociati in questo momento ok passiamo attraverso il mercato guardi guardi tu dove sei? ok noi iniziamo ad andare in direzione 260 ma sento veicoli credo ah no niente l'aria condizionata tieni Mark Spenner riesce a vedere la villa in cima a 198 mi sembra di aver visto un movimento è una villa a 198 gradi con delle palle sì ce l'ho da avanti ma non vedo nulla che si muove da qua ti vedo riga ah bello dai rialzatelo che ormai la città sembra quasi pulita eh vogliamo amici sulla destra ops ho il suo retro canale iniziamo a coprire a liberare la strada che dobbiamo fare in blu quindi questa qua sinistra tappa vieni qua ok abbiamo alzato i hollywood che noi iniziamo cosa facciamo su qua sulla tettoia il vostro percorso allora tappa hai sentito la direzione 200 sopra i sassi oh siamo arrivando siamo arrivando da te Eagle ci sei? sì sì sono all'angolo dell'edificio giallo dietro la squadra di Rai la sto coprendo la dietro alto vis noi siamo al veicolo dei blu va bene allora lasciate lì un attimo voi noi rossi avanziamo un attimo sopra la linea ti raggiungo tappa all'interno della villa sembra libero do un'occhiata veloce sulla strada ci sono dei nemici su lungo la strada stanno venendo verso di noi ne conto solo uno al momento negativo tappa veicolo non arrivarà eliminato con un altro dietro e a terra ok rossi avanziamo ancora un po' abbiamo qui i nostri della polizia all'ingresso della città dopo il piano dopo il ponte ho guardato ma ne ho trovato ulteriore fantira ne ho avuto la villa oh se vado giù ho pronto a tirarmi in su resto in copertura tappo da lux tappa ascolta da qui non vediamo niente c'è il palazzo davanti che ha un altro tetto che si può raggiungere spostatevi contatti nella villa down contatti dentro la villa ok ricevuto sì di questa zona qua è tutta stampina di nemici vedo altri due contatti 258 vite vieni qua dove sono io che li inviattiamo insieme e li inviattiamo ma no sono in tre e sono distanti no finiti eh allora torniamo i veicoli noi diciamo alla polizia che può avanzare dobbiamo recuperare una ruota dei nostri veicoli e lasciarla alla polizia poi eh va bene ok rossi recuperate i veicoli noi vi aspettiamo i benzinai ok lì lo hai fatto trovare sotto eh sul canto al ponte in pratica eh lux vieni pure ricevuto ah non troviamo quindi sì sì scendete vieni pure al benzinaio è il benzinaio 250 ti metto giù una marcha K arriviamo Ringer per me il benzinaio oppure al ponte 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 come prima altri video prendiamo il loro veicolo e prendiamo il nostro io velo e io velo e prendiamo il nostro da qua è libero a rigare il benzinaio posso fare una ruola di corsa sì sì tranquillo e gli altri approfittino per rimettere a posto i caricatori faccio la retro appena a tale no venite giù venite giù dove state andando venite giù ma non era su il mezzo no no è sotto il ponte mi ha diminito di dirlo colpa mia qua colpa mia stiamo dietro di voi per i carri ci sei cosa sta succedendo l'arc ci sei ci sei Sì, siamo qua di incrocio. Il parcheggio è qualificato il mio. Ok, recuperiamo i mezzi. Ok, per dipendere, dico davanti. Ok, mi lasci il posto a guida tu, che tazzo. E sono in? Da, uno salga su davanti, perfetto. Ok, tappa a me in versione. Dove andiamo? Percorso verde, mi sa. Percorso verde. Che costruisciatore, Igor, sei tu? Sì, si è fermato. Oh, velocità, quella che vuoi. Quindi in piano. Ecco, che è il legger darmi, andate pure per la vostra strada, noi poi siamo per la nostra. Quarantacinque. Dica il più veloce che muovi ancora. No, no, no. Sessanta. Più. No, no, negativo. Sono io più so con la mia smidazione, mamma. Abbiamo un motore rotto, io ne ho anche io. E' una muscia che devo guidare io, guarda qui. Vado a tavola, hai ricevuto. No, che andresti a andare con la macchina quando un valo tutto. Ombra, ombra, ombra volevo dire Ma abbiamo ora che chiamo ombra cobra e nessuno dice un grazie A presto, a presto, a presto, a presto A presto, a presto A presto A presto, a presto, a presto, a presto A presto, a presto, a presto A presto, a presto A presto, a presto, a presto 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 A presto A presto, a presto A presto, a presto A presto A presto, a presto A presto, a presto A presto, a presto 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 Magari se è meglio tornate pure un po' indietro eh Sì sì stiamo andando il compound Ok anche noi allora Mi do il salta su su un veicolo lì E portalo là davanti Gli altri salta su su un veicolo Sono a vostra preferenza L'unica mitagliatrice carica è questa dove sono io No mi vieni di vai Ok mi spieghiamo un compound Che emozione Ecco il mio parcheggio non è di migliore Ok Però va comunque bene dai Ok Vai su V.3 tappa E' pericoloso avanzare E' pericoloso avanzare No 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 venite tranquilli No dico Guarda oltre V.3 lungo la linea verde Possiamo possiamo avanzare Allora Allora Ok ma sono abbastanza lontani Sì contatti sono i camion Va bene Da dietro Da dietro C'è una squadra di due o tre o quattro persone Da dietro Due sono da una A gradi trentaquattro Vicino agli altri Spanati spanati Ok possiamo proseguire noi Eh sì Aspetta Dov'è Ehm Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua A noi A quanto pare non hanno stati sparati abbastanza Se non ancora vivo forse No Pure di sicuro no Vieni con gli altri veicoli Alla fine Alla fine della pagina verde Saltate su sul vostro veicolo 103 E la madonna Sono a waypoint 2 e gli altri Ehm Il moto Ehm Quello che scegliete voi Questo qua E scendi E scendi E Scendo Senti Senti Davanti A 200 gradi Ci sono un casino di nemici Non sparate Allora Ma stanno spawnando un casino di aida C'è noi Carigel Sì Moro l'acqua Allora Ehm Rossi siete su anche voi Quale Quello di extra cazzo Non si muove Sì Ok K Ora Seguiti Eh Seguite a me Poi non giro Un po' lungo Microfono Prego Negativo Negativo Perché Andiamo un po' lungo E andremo Nessuno Incagiano Se andiamo più veloce Non spariamo neanche che sprechiamo Corri No 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 Non scendete Non scendete Restate su Ehm Mi sono sposato in un po' tranquillo Per Un altro scendere Per Per decidere meglio il percorso Ma a quanto pare Non è tranquillo Neanche per il cazzo Ok Allora Oh Dei rischi vanno presi Tappa Seguimi Ehm Avanzo lungo la linea Di negozi Adoro Qualcuno avanti a te On si Che Si sono arrivato, sono strade contatti c'è un ente verso sinistra ora, verso sinistra ok, vai verso sinistra pita azù E' come va il tuo veicolo? Vai vai tranquillo Aspetta un attimo Andiamo a far copertura Aspetta aspetta Contatto contatto dietro Scendete scendete dal veicolo Ok ma siete tutti morti Eppure il medico Cosa hai i veicoli ingaggiati amici? Il numero che ti cura Qua ho sbagliato un po' io a fare queste cose qua Ma possiamo andare avanti a piedi da qua? Fregatene tanto qua abbiamo il camion No più che altro che loro non rispondevano E pensavo di dover andare da loro Possiamo cercare i veicoli Tanto non riusciamo a non ingaggiare i nemici Aspetta no Aspetta no Contatto cerco la più grande Scendete la ruota 1-4-6 Gratti 1-4-6 Ok mi ha fatto Vieni ancora in piedi Allora Non è molto bella Vieni ancora in piedi Vieni ancora in piedi 1-2-5 Contatto Presto Vieni ancora in piedi Scendete il made Vediamo anche il mischio c'è un altro a 1, 2 e 5 1 1, 2 e 5 Poi! Retro il cut, le e 5 si, i supt! LoC, vedi que tu le billes va indietro se ripresa con me basta ok tutti dietro, tutti dietro e mezzo ce ne stava uno qua sotto da me raga o se c'è un altro e più di così non posso correre va granata ti detti giù a terra ma no ma non ne vedo più questo qua è arrivato vicino allora tornate sui veicoli adesso veicoli ci spanno sui senza una ruota credo no no va bene va bene lo sto in subito io ci siamo tutti ci siamo tutti ah rixi lì lì aspettate che sto a terra io hai perso la ruota lì 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 ti sposta, fermo. Ok, tappa, gestisci tu l'entrata in città, andiamo in diretti a sud verso la cittadinacotraficante. Ok. Ok, copertura tra 60. Ok, ragazzi, ho messo giù dei punti, così se ci perdiamo, se c'è casino, diciamo il punto e ci ritroviamo lì. Ok, ci muoviamo, Riegel. Ok, vedo bene il bacino, ma davanti a noi, però ho degli alberi che mi coprono la direzione del porto, delle banchine e tutto il resto. Eh, allora magari vieni giù che sei più utile a terra tra di noi. Appacchiamolo nel movimento, se no stiamo indietro. Eh, sì, sì, ero lì tra voi, ho detto ci muoviamo, ma l'ho detto un paio di tempo fa. Ok, noi arriviamo, seguitemi come prima. Beh, era un consiglio, eh, non è che. Ok, siamo a 1. Ok, siamo a 2. Eh, ricevuto, noi riceviamo con lo stacco di un marker monale. Ragazzi, se ci ringaggiano, ripiegate di un punto. Abbiamo passato due, andiamo a 3. Ok, giù, sono qui dietro a voi comunque. Ci senti un mezzo. Sono i condizionatori. Lol. Sento sparare. Ci spostiamo sulla sinistra. Voglio che c'è il bacino, non so se volete attraversare attraverso il ponte. Ecco il bacino. Oh, guarda che terapea nuoto, eh. Siamo al ponte, siamo al ponte. Vai oltre il ponte, rapido. Siamo al ponte. Non c'è un punto qua, nel mezzo. Ragazzi, è un tappa, si può salire sulle scale qua? Sì, stavo per dire, di noi, sali su questo, su questa scala bianca, e secondo me è una buona posizione lì. Giù, voto. Grazie, no. Siamo un po' diversi, ma lì in su. Ma lì, l'altra scala, l'altra scala. Ah, non si va. Oh, incontrati. Ehi, non si vede come a sinistra. Non si vede come a sinistra, eh. Siamo un po' al ponte. Contatti a 188, lontani. Raccone, è uno sì, l'occhio, uno sì, l'occhio. Non mi posso andare avanti. Raccone, è uno sì, l'occhio, uno sì, l'occhio, uno sì, l'occhio, uno sì, l'occhio. Abbiamo Aldir a terra. No, sei rialzato. Sei giù, Aldir, eh. Mettizzo il ponte, tengo vettura. Ok, passati pure, libero il ponte. Il ponte sinistra è molto contestato. Mettizzo il ponte. Devo ripiegare per curarmi. No, vieni la matta al ponte, no. Sono feritissimo. Allora, Richel, noi proseguiamo a destra, poi a sinistra. Sono anche il titolo. No, ho mandato un'occhio, c'è un palazzo. Il ponte di sinistra è molto contestato. C'è gente vicina alla matta, 50 metri. Ok, ci sono. Balconi, Balconi, casa azzurra. Come gradi? Grazie. E' 129. Posto di merda sto qua. Non dar via. Vieni, vieni anche te qua al ponte. Scusa il ponte. No, direi che è il ponte. E' andiamo a giro l'arco. Arrivano i colpi, arrivano i colpi. Eh, vivo, vivo. Sì, 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 vivo. E' passato qua adesso. Sperato, quello sulla strada. Non so se non riesci a vedere i nemici. E' pure il tuo. Ce ne sono due sul te... Uno te ne ho alterto già adesso. Sul te... Sì, vieni. Sì, vieni. Sì, vieni. Ok, becca tu qualsiasi cosa su balconi e tetti. Io sono morto. Ah, vanno in piedi, vanno in piedi. Ciao, contatto 150. Tango down sulla gru. Ok, vedi la tua idea è accolta. Saliamo sotto questo palazzo qua dietro. No, 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 no. No, no, no. Sta scendendo un contatto da sopra al silo. Ah, gradi... C'è la casa a blu e sta a farlo, vedi? Gradi 170. 100, 1, 3, 1. Non mi sembra una equal. E' un contatto? Si muovono troppo bene. Si, ammazzano un contatto, un sparro. Sì, ammazzano un contatto. Si vede poco. Noi, vai, scendiamo, andiamo... Ma con gli alleati? Allora, ragazzi, ci sono un sacco di contatti qui di là. Non è possibile andare alla casa. Vieni giù, vieni bene, vieni giù. Ho contatti in pista. Uno down. Ok, ha detto che ti hanno da tre sparti qua. Vieni te, quando poi vieni giù anche da. Igor, supporto l'edico. Tappa io scendo, tappa io scendo dall'altro palazzo. Eh, si, inizio a recuperare. Siamo al punto 5, esattamente a 5. Ok, siamo tornati sulla sinistra davanti al ponte contestato. Ok, al di rio è la società della sinistra che prendiamo il controllo della casa, lì, gialla. Ok. Ok, ragazzi, l'obiettivo è la casa con il tetto azzurro, eh. Aldir, tieni. Rispetto ad Aldir, rispetto alla squadra di Dragel, dove che siete, tappa. C'è un punto 5, proprio 5-5. Qua davanti, qua davanti. Ok, io salgo su questo balcone. Ok, balcolata, un po' inutile. Ok, down, brazzo, ok giù. Questa balcolata è un po' inutile, scendiamo, che avanziamo paralleli a tappa. L'iroi, vieni giù dalle A e raggiudici. Regiudo. Attento a sinistra, attento a sinistra, regale. Va bene. Ok, spostiamoci proprio su un porto, allora. Eh, tappa, un minuto che cura ombra. Vai tranquillo. Ricci, fatevi da casa il coltetto azzurro e poi proseguite, verso l'obiettivo. Ok, di te, vai, di salito a controllare. La merda, che farò, ma? C'è tutto il beluso. Ci sei, Ricci? E' giù, un attimo, che lo cura. Chi sono? La sparta da lungo, mare. E' giù, un attimo, che è giù, un attimo, che è giù. Io ho un attimo, che è giù a bianco. E' giù, Aldir, è fuori a bianco. E' se il pericolo sono usciti. Se mi sparano, adesso non siamo davanti a voi. No, finito tutto. E sia io che Aldir siamo a... Granata fuori. Meno morfina se poi le vende, se no. Ok, ci muoviamo. Venga, e sono a posto. Attenzione perché quando sono salito mi hanno sparato dalla nostra destra, quindi... Ok, com' vicino a me. Possibile. Ancora sparato, ragazzi, rimarratevi dimenticare. Bende, bende e morfina sui cadaveri. Un altro giro. Noi proseguiamo, ragazzi. Andiamo al serio. Curo, lo bendo. Era qua, era qua. Dietro di noi, praticamente. C'è tre, tre, cinque, dove c'è la casa, questa qua, a lancio. Dicono, sei in questa casa che cosa? Stai vicino, fai attenzione. Allora, qua c'è... A star Entrate in casa, entrate nella casa, ragazzi. A star Voi, due, un... Preso? Grazie a me serve una morfina. Deve mi hanno persinho. ragazzi mettetevi in linea qua il muretto dove c'è la barca ottimo mettete in sicurezza l'area che magari andiamo a recuperare la polizia ok mettetevi tutti qua il tuo muretto e puntate sono ci sono sono contatti quelli secondo me sono animazione del gioco c'ho buttato solo un caricatore non sparate le barche sono animazione del gioco allora amazziamo ragazzi abbiamo amici a 130 gradi ragazzi dove sei andato sul lungomare? si sul lungomare avanziamo noi possiamo andare nel molo? va bene ragazzi ti ho perso un attimo sono davanti sono avanzato lungo il mare ok ti vedo stai luttando? fermativo signor abbiamo bisogno di prendere le morfine è arrivato lì ma riusciamo ai capannoni non c'è attenzione avanziamo anche noi rossi quello sulla gru a 159 è alleato è negativo non parla di tramite che ti tirano 5 capannone ci sono le porte di questa cosa sono i nostri quello del capannone no? si sentono qualche arrivare qui eh lux scusa eh dico scusate in quella casetta è che ci sono 5 e 9 l'ho preso ci sono davanti di sicuro uno è stato preso forse ce ne sono altri uno è uno ragazzi prova dagli un albero di comunicazione al giallo devi stare attenti a che non si sa di non farlo solo eh salite anche voi sul molo rossi vediamo anche negli hangar e via tappa via rai c'è sere rai c'è sere rai c'è sere possiamo prendere i camion e venire da voi? no non puoi venire oh rossi venite anche se vi sparano tappa se passiamo da dietro a sto molo no no i eliminati quelli che ci sparavano adesso arriviamo ai container davanti ai camion rossi vanno in giro dietro ai 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 d'accaro c'è movimento a 140 dopo le costruzioni tappa resta un gabbiotto no no vieni pure avanti io sono alla gru sei dove siamo? noi siamo ai camion siamo sotto ai camion ok abbiamo i nostri della polizia davanti attenzione al di stessi una tappa gradi 150 ci sono i nostri della polizia attenzione tappa qualche salgo su uno dei container su uno dei silo no no aspettiamo cosa dice ok coprite solo le entrate del porto posizionatevi nei container vicino ai camion e fate copertura 360 è meglio alla gru ragazzi venite qua alla gru è meglio allora posizionatevi in opposizione favorevole fate copertura 360 ok ascoltate qualche dice tappa che tappa chissà di cose no no perché ci sono i piedi della gru che coprono esatto polizia alleati alleati in arrivo 133 alleati all'ingresso del del molo si io non mi ricordo dove abbiamo lasciato i mezzi chi è che spara? nemici a quanto pare l'ar lag 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 cosa c'è? a chi cazzo spariamo? non lo so a me sono partiti due colpi per niente non ho neanche premuto il mouse ma l'arc se non era stato è quello che era stato buttato fuori e chi cazzo fa? provo a sparare oh tappa attenzione perché mi spara l'arma senza che io lo spremi al grilletto e prendi la pistola in mano allora tappa tu ho messo la posizione in mappa dei nostri mezzi ma dite di non sparare le barche che tanto non muo sto ricaricando i caricatori no li ho ammazzati tappa 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 avanti andiamo a prendere le gif ok tutti le gif ragazzi un attimo che sto ricaricando il caricatore ok aspettiamo un attimo prendiamo una barca magari ci stiamo in otto sulla barca ok operativo ok mangi rossi partite prendiamo i camion e andiamo a prendere le macchine con i camion adesso è meglio anche se anche se no oh prendi il fucile in mano che bello ma ragazzi fate la stessa strada non si sa mai oh e se in due tagliassimo con la barca? reggio sei il primo della fila? qua c'è una barca a torta che senti mi veni so come per me mi veni dal tra parca eh mi veni dal tra vipolo passata 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 spesso passata passata No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no L'usione di postale? Sono stata portata con la passazione per la tua qua, andiamo al massimo, se non avanti. Anzi no, se non puoi andare a portare. Non so che il camion deve cambiare la parola, io voglio telle. E dove stiamo? Meno 30 Meno 30 Sì, non posso andare a portare io, perché io vado subito. Non mi sento il ruino. Dicevo che non posso andare a manetta io, perché il camion avanti salto su. Come già non ci guida. Ah ma insomma andiamo a portare il camion avanti al camion. Oggi, non ci guida bene, non ci guida bene. Invece non ci guida, non ci guida bene. Ci guida bene, ma l'ora non si è avanti a percorso? Allora, io faccio un po' preso. Sembra.. zembrato... ..dì... come avete visto che l'antipo orfetto è più bello Mi senti adesso? Sì, senti così. Come è che tu fai senza il lavaggio? Mi senti? Sì, è la stessa malattia di gnazzi, comunque ti sentiamo sia con che senza. E' un po' andato. No, no, fa male. Abbiamo passato il marchio adesso. Siamo rincomati. Elicopteri. Dov'è? 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 Converti il plano. Ma cù, fai un minuto, vediamo il camion è anche il trasporto materiale. Mi ha raccrasciato il gioco, cazzo. Ma ma senti, mi ha matto un camion, dove è il terzo camion? Fai andare il camion, armate il trasporto materiale, si trasporta. No, no, ti restai il terzo camion. Sì, se non c'è il terzo camion, se ne va anche a fanculo, cioè, basta. Ma come si sa che siete finiti? Adesso c'è nel video, la rubano. Ah, è arrivato, è arrivato adesso il terzo camion. Ah, io non lo vedo, ne vedo due, l'altro sarà al dietro, buh. L'altra è qua, è già un panchicetto qua. Oh, che grancia granate. Lux. Che bello sta a fare qua, eh? Lo spray. Qua c'è? No, non penso a questo, è un certo se non ne fa nada. Che bello il convertizzano, spettacolo. Questo sarebbe lo spray americano, la riproduzione dello spray americano. Ma che frey, lo fa la giusta, lo spray. Non entrare. Sei lontano. State lontano dai polizioti, sei lontano. Siamo lontano dai polizioti, sei lontano dai polizioti. Tenete punta dai polizioti, pronti a ucciderli. Alzate le armi, non ottenite le passi. No, non è armato, è trasporto. Grazie. 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 Grazie a tutti.